Quello che vi manca, ragazzi, è la volontà. Non il coraggio, ma la volontà. Perché vedete, il coraggio di compiere qualche azione imbecille, quello lo potete anche trovare. Magari per una manciata di secondi, così vi sentite degli eroi. Ma la volontà. Quest'uomo è un ladro della peggiore specie, eppure... Nessuno di voi avrebbe il coraggio di ucciderlo così. Cari amici, questa volta faremo un salto dall'altra parte del mondo, in Florida, per incontrare Fabio Bonini. Attore di cinema, teatro e televisione, presentatore, doppiatore e anche viaggiatore. Fabio Bonini ha interpretato molti ruoli, lavorando con Dario Faux, Corrado Tedeschi, Luciano Violante, Carlo Manzina, Gino Bramieri, Woody Allen, Maurizio Nicchetti, Ornella Mutti, Giancarlo Giannini, Paolo Limiti e molti altri ancora. Non si permette mai più di venire al campo vestita così. Oppure rinuncio a mio incarico ancora prima di iniziare. Questo è un campo da calcio. E le cose qui si sudano. E' apparso in molte produzioni televisive e ha lavorato come doppiatore in un gran numero di spot pubblicitari. E' entrato nelle case degli italiani interpretando personaggi di grande popolarità. Lo troviamo ad esempio nella fortunatissima serie Vivere. Questa è la volontà. Ma voi questa volontà, questa determinazione, non l'avete? Non è vero. Io questo coraggio, questa determinazione ce l'ho. Ho voluto fargli alcune domande perché, come molti di voi hanno già potuto vedere in altri episodi, con la rubrica Vita in viaggio stiamo cercando di incontrare ed entrare nella realtà di molte persone diverse tra loro, che stanno conducendo un viaggio vita che può risultare interessante per tantissime ragioni. E il punto di vista di Fabio Bonini rispetto al viaggiare è ciò che mi interessava condividere. Quindi visto che si parla di cinema tv, prendete pure una sedia comoda e non perdetevi questo episodio. Ma prima ancora di iniziare, guardiamo ancora una volta Fabio in azione. Ciao Fabio, ben trovato. È veramente un piacere averti qui. Sono strafelice e sono veramente curioso del tuo contributo e del tuo punto di vista. Ovviamente la tua è una vita in viaggio. Non possiamo pensare che non lo sia proprio per quello che hai fatto, le scelte che fai e ovviamente anche ciò che ha comportato il tuo mestiere, quello di muoverti spesso. Un lunghissimo curriculum il tuo, tanta tv, tanto cinema e tantissime cose che hai fatto e continui a fare. Un vero viaggio il tuo, tra diverse tappe, deviazioni, salite e discese artistiche, tornanti. Ecco, mi piace utilizzare questo linguaggio on the road. Quali similitudini vuoi raccontare tra il viaggio convenzionale e il viaggio vita di Fabio Bonini? Beh, intanto grazie Davide per avermi qui con te. Che dire, una vita professionale fatta di alti, di bassi, di ostacoli improvvisi. Insomma, il viaggio è un po' la metafora della vita e così anche della vita professionale. Io credo che il viaggio sia un'emozione, una sorpresa, a volte anche brutte sorprese, ma sia una cosa meravigliosa. La mia carriera è stata costellata di cose meravigliose, ma anche di delusioni, di inciampate dolorose. Però alla fine quello che ti resta dentro sono le cose migliori, sono le cose più belle, così come per il viaggio. Viaggiare per me è una cosa straordinaria, la vita è una cosa straordinaria e il mio mestiere è altrettanto una cosa straordinaria. Il tuo lavoro ti ha portato sicuramente molto spesso a viaggiare, ma durante questi momenti hai avuto la possibilità di ritagliarti del tempo per entrare più personalmente, intimamente in contatto con i luoghi e le genti che hai avuto occasione di incrociare? Ebbene sì, il mio lavoro mi ha portato spesso a viaggiare e a incontrare persone. Quando viaggi incontri persone di altre culture, persone che sono cresciute in un contesto completamente diverso dal tuo, oppure persone che hanno molte similitudini con te. Però sono sempre incontri speciali perché da ognuna di queste persone che incontri durante un viaggio assorbi qualcosa, assorbi qualcosa del loro modo di pensare, della loro vita. Ogni volta che viaggio mi guardo intorno e dico quante vite ci sono in questo posto, quante persone che in questo momento si amano, quante persone che in questo momento stanno discutendo, stanno litigando, qualcuno che vende dalla sua bottega o del suo negozio. Insomma, viaggiando incontri, incontri veramente l'essenza dell'essere umano in tutte le sue sfaccettature. E ovviamente capitano anche incontri speciali, incontri che ti lasciano qualcosa dentro. Ma nel complesso, ancora una volta, dico che quando viaggi il bagaglio di esperienze, il bagaglio di cultura, di incontri che fai è veramente straordinario. Fabio, sono estremamente curioso di conoscere la risposta a questa tua domanda. Qual è stata la trasmissione televisiva, l'esperienza cinematografica che ti hanno fatto viaggiare di più emozionalmente e perché? Il programma che mi ha dato più emozioni? Beh, lascerei perdere il cinema dove le emozioni sono scontate e sono forti, ma sempre legandosi al viaggio, probabilmente il programma che più mi ha dato emozioni da raccontare, emozioni vissute, è stato proprio Gente di Mare, un programma che è andato in onda sul satellite parecchi anni fa e grazie a Gente di Mare abbiamo incontrato la Gente di Mare, coloro che del mare fanno la loro vita, la loro professione. Quindi dagli ufficiali di marina al marinaio semplice, arrivare al pescatore, al palombaro, al subacqueo. E devo dire che la gente di mare ha qualcosa di diverso, di completamente diverso dalla gente che conosciamo noi, che probabilmente vive in città, un po' così come la gente di montagna. La gente di mare e la gente di montagna hanno veramente molto in comune, amano i grandi spazi, amano la solitudine, ma non è una solitudine triste, è una solitudine che riempie, riempie di gioia, di emozioni. Essere in mare o sotto il livello del mare con un'immersione è un qualcosa di indescrivibile, è un qualcosa di straordinario. Quindi sì, direi che Gente di Mare è stato il programma che mi ha dato più emozioni, perché ho conosciuto persone straordinarie, ho visto posti straordinari, ho passato giorni in mare, sopra e sotto. Gente di Mare. Siamo a Danzica, sesta città della Polonia, molto nota per le sue tradizioni marinaresche, per i suoi cantieri, che i più hanno conosciuto grazie a Solidarnosc. Ci auguriamo che questa sia la prima di una lunga serie di puntate che ci porterà fuori dai confini nazionali. Ma iniziamo dunque, andiamo a conoscere la gente di mare di questa terra, la gente del Mar Baltico. Allora, questo canale si ispira al concetto di Prost, che dice Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma dell'avere nuovi occhi. E attraverso questo nostro Wanderlust Let's Travel, nel nostro piccolo, cerchiamo un po' anche di diffondere questa visione, cioè che quell'approccio che uno potrebbe avere in luoghi esotici, lontani, lo può avere anche entrando in contatto con tutto ciò che ha intorno, nelle relazioni quotidiane. Quindi cercando di lasciarsi, a me piace usare questa espressione un po' contaminare, da tutto quanto. Quindi la domanda che ti faccio è quanto tutto questo è vero e che cosa implica? Proprio così, il concetto del viaggio, come dici tu, è lo stesso concetto di Vandalus, della tua trasmissione, è quella di viaggiare non per scoprire nuove terre, perché per me le terre sono state scoperte tutte, almeno su questo pianeta, ma viaggiare con nuovi occhi. Quindi non alla ricerca di nuove terre, ma alla ricerca di sguardi diversi. Quando uno viaggia, non è in vacanza, e poi ci sarà anche questa grande differenza da fare. Quando uno viaggia, viaggia. Uno viaggia non per esplorare, per scoprire, ma per guardare quello che già è stato scoperto, magari anche millenni prima, con occhi che sono diversi dal vacanziero, sono occhi che approfondiscono di più, sono occhi che entrano nell'intimo delle persone, che entrano nel dettaglio dei luoghi che si vanno a visitare, che tutti hanno una storia più recente, più antica, ma tutti hanno una storia. Qual è il confine, secondo te, tra viaggiare ed essere in vacanza? Viaggiare ed essere in vacanza. Io non sono mai stato in vacanza. Forse da piccolo, quando andavo sulla Rivera Adriatica con i miei genitori, quella forse era la vacanza. La vacanza per me è l'ombrellone, una spiaggia, un resort turistico, dove anche a Bali puoi mangiare la cotoletta alla milanese e un buon piatto di spaghetti alla carbonara. Invece il viaggio è un qualcosa che ti immerge completamente in una realtà che è sicuramente diversa dalla tua. Poi, per carità, ci può essere anche lo spazio, il momento di passare una giornata in spiaggia sotto un ombrellone, questo assolutamente. Ma la differenza è che quando sei in viaggio vai ad acquistare nel mercatino locale, ti confronti con il pescatore del posto, con il pizzicagnolo del posto, i prodotti sono diversi a seconda del paese dove ti trovi, perché la terra dà prodotti diversi e se sono uguali magari sono cucinati in modo diverso. C'è chi usa le spezie, chi non usa le spezie. Quindi la grande differenza tra viaggiare ed essere in vacanza, viaggiare e fare il turista è proprio una differenza abissale. È un muro, c'è un muro. In mezzo non c'è una linea, come dici tu, che separa. È proprio un muro, una grande muraglia cinese. Questo tuo amore per il mare ti ha portato a realizzare anche un sogno e una grande impresa con Isi, la tua imbarcazione. Ti va di parlarne? Qual è stata l'essenza di quell'esperienza? Che sapore ha l'oceano? Beh sì, io mi considero un po' un uomo di mare e ho viaggiato molto anche in barca. Ho provato l'emozione dell'oceano di una traversata atlantica, quindi giorni e notti, notti e giorni, nei turni di guardia, nei passaggi tra il giorno e la notte di una lunga traversata. e quindi il rapporto con l'oceano è una cosa stupenda quando sei là in mezzo con questo silenzio che è un silenzio, che non è silenzioso, ma è un silenzio nell'animo, una pace interiore che ti permette di guardarti dentro, di scoprire cose di te stesso che neppure con una seduta psicanalitica verrebbero fuori. Possono essere cose belle, possono essere cose brutte, ma sicuramente ti aiutano a costruire delle fondamenta ancora più solide di quello che sei tu nella realtà. E il rapporto col mare per me è fondamentale, ma amo anche la montagna, come dicevo prima, chi ama il mare solitamente ama molto anche la montagna, perché sono due elementi naturali forti, enormi, imbattibili, invincibili, hanno una potenza, una potenza meravigliosa. Oggigiorno ci sono molte persone, sempre più spesso, che fanno delle scelte drastiche, delle scelte importanti, ribaltare completamente la propria vita, vendere la propria casa, liberarsi di tutto il futile, di tutto l'inutile, e viaggiare. Che cosa ne pensi di queste scelte così importanti? È proprio viaggiando in barca che ho incontrato persone, come dici tu, persone che hanno venduto tutto, hanno mollato tutto, hanno comprato una barchetta, e hanno incominciato a vivere la loro esperienza di famiglia. Dico famiglia perché molti, soprattutto i francesi, che sono grandi marinai, grandi navigatori, viaggiano con tutta la famiglia, con i figli, fanno la scuola privata a bordo, e vivono la loro vita così, pescando, vivendo su una barca che diventa la loro casa, e viaggiando, e scoprendo persone, scoprendo emozioni, scoprendo il luogo. Quindi io ho un grande rispetto per chi sceglie una vita del genere, una vita a cui ho pensato anch'io quando ero ragazzo, ma poi la vita ti porta poi a fare altre cose, generalmente non è così facile poi farlo, perché un conto è parlare, un conto è veramente vendere tutto e salire su una barca o andare a vivere in cima a una montagna e dimenticarsi del mondo. Quindi ammiro molto queste persone, rispetto molto queste persone e perché no, in un'altra vita. C'è un incontro speciale in viaggio che tu hai fatto che ti ha lasciato un insegnamento davvero speciale che ti andrebbe di raccontare? Persone, anche tu Davide, sei un viaggiatore, quindi ne hai incontrate sicuramente. Persone che hanno lasciato qualcosa, mi viene in mente una volta, era una produzione, eravamo alle Seychelles, nulla di che, però due parole che al tempo mi avevano toccato molto e mi avevano lasciato molto, soprattutto fatto riflettere molto. Eravamo alle Seychelles con questa produzione, una produzione commerciale, nulla di che, e in un momento di pausa c'era un pescatore, io mi avvicino a questo pescatore, inizio a chiacchierare come va, com'è la vita qua. Io ero molto giovane, avevo probabilmente neanche, neppure 30 anni e quindi ero un po' all'inizio della mia carriera, quella vera diciamo, perché ho poi iniziato a fare la radio molti anni prima, negli anni 70, quando avevo 15 anni, ho iniziato a fare la radio con le prime radio private. Comunque c'era questo pescatore, allora vado, inizio a chiacchierare un pochino, dico, ma qua la vita su queste isole è così lontane da tutto, dalla civiltà. E lui è stato molto semplice, mi ha detto banalmente, qua la vita è straordinaria, non ci manca nulla, abbiamo tutto dalla terra, noi ci svegliamo la mattina, andiamo a pescare, portiamo il pescato al mercato, una parte la portiamo a casa per nutrirci, facciamo l'amore con le nostre donne, il giorno dopo torniamo a pescare, portiamo a casa il pesce, può sembrare una cosa banale, noiosa, in realtà è l'essenza della vita, perché cosa viviamo? Per andare fuori casa, tornare a casa con del denaro per comprare da mangiare, poi serve la macchina perché bisogna per avere la macchina per andare a comprare e mangiare, quindi diciamo che noi la vita ce la siamo un po' complicata, in realtà la vita nella sua semplicità è una cosa straordinaria, molto molto semplice. Ci sono storie che nascono da piccoli gesti o semplici intuizioni, senza immaginare quanto possano cambiare il destino e le abitudini degli uomini. Davide, devo ringraziarti per avermi voluto ospite qua con te in questo strepitoso canale, questo canale del viaggio, Wunderlust, e che dirti, ti invito ufficialmente a venimi a trovare in Florida, potrei farti da Cicerone, anche qua ci sono luoghi meravigliosi come tutti gli Stati Uniti dove ho deciso di vivere da qualche anno e quindi grazie per avermi avuto qua davvero e spero di averti ospite di persona qua in Florida. Allora, grazie Fabio, grazie, grazie davvero, è stato un grande piacere avere questo tuo contributo, chissà, probabilmente ci vedremo proprio a Miami, chi lo sa. Grazie per l'invito e grazie per essere stato ospite quando vorrai, qui c'è sempre spazio. Ciao! 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 Ciao!